In merito agli ultimi fatti che sono accaduti ad Afragola, nel Napoletano, a Napoli, anche in città, sugli ordini, c'è una mutazione della Camorra? Ma guardi, Napoli e un po' il suo territorio sono difficili da incapsulare e schematizzare. Noi abbiamo avuto un calo sensibile di reati gravi, a cominciare dagli omicidi di Camorra. Poi ci sono stati gli ordini esplosivi di Afragola e di Napoli che ci impediscono di cantare vittorie. Io credo che ci sia stata una mutazione genetica da parte della Camorra, che è sempre più interessata a marcare il territorio per acquisire posizioni di potere sul piano finanziario. È un giano bifronte, un'ala militarista, un'ala finanziaria e credo che i successi dello Stato siano stati importanti. Ma il messaggio che deve partire è che non conviene fare affari con la Camorra. Purtroppo questo è un cammino che abbiamo intrapreso ma è difficile perché ci sono fili sotterranei che legano la Camorra a imprenditori, a politici, a liberi professionisti e quindi in questo sotterraneo rapporto indagare è difficile. Ma lo faremo e lo stiamo facendo perché soltanto in questa direzione, impoverendo la Camorra, noi potremo raggiungere dei risultati. Mettere, dicevo, le mani nelle tasche della Camorra e dimostrare a quanti credono che la scorciatoia per fare affari sia mettersi sotto la protezione del camorrista di turno sia conveniente. Ecco perché non è conveniente, visto che dobbiamo lanciare un messaggio, questa commistione tra persone insospettabili e la Camorra. Ma allo Stato è sembrato evidentemente conveniente perché per un imprenditore mettersi sotto l'ala protettiva di un boss, bussare alla sua porta significa utilizzare la forza intimidatrice della Camorra e magari di collusioni politiche. Se noi andiamo a scoprire come sia a Napoli che in provincia questo è accaduto e andiamo a confiscare dei beni per chi commette questo tipo di reati, noi non facciamo una predica perché le prediche non valgono a nulla, ma facciamo dei fatti che devono lanciare quel messaggio che dicevo. È difficile, ma lo stiamo facendo e lo faremo, ma altrimenti ci troveremo sempre ad avere magari delle statistiche che ci inducono all'ottimismo e poi a scoprire che vi sono realtà non emerse che ci danno una chiave di lettura.